E' stato presentato ieri nell'aula magna della scuola media San Francesco di Gela il libro scritto da Girolamo Sansone, Sotto il cielo stellato un'iniziativa che ha riscosso l'apprezzamento del pubblico intervenuto Girolamo Sansone riesce benissimo a descrivere la mentalità, la cultura dei pescatori che hanno fatto anche la storia di questa regione Ecco, si diceva che sarebbe anche il miglior regalo da confezionare per Natale dunque lo consigliamo a coloro di quali sono appassionati di lettura Io naturalmente consiglio, se il libro potrebbe sembrare cicero pro domo sua però a me al di sopra di qualsiasi cosa c'è il libro e poi questo libro in particolare che ho voluto presentare proprio perché rientra in un tema che abbiamo iniziato da tempo Universo Donna e qui si può constatare come la figura femminile soprattutto nella nostra realtà, la realtà siciliana dove si ritiene che sia in secondo piano in realtà è dietro le quinte per quella che regge le fila della nostra società Ma cosa c'è sotto il cielo stellato? Sotto il cielo stellato è un titolo allusivo a tutto il racconto, alla storia che c'è perché si parla di civiltà marinara e soprattutto l'attività del pescatore e soprattutto il pescatore di Scianciolo viene svolta durante la notte quindi sotto il cielo stellato e poi il cielo stellato sta sopra tutti noi e quindi ci troviamo a stare tutti sotto il cielo è un po' allusivo, il titolo è allusivo a quello che è l'officina della vita perché tutti siamo sotto il cielo E quando l'hai scritto questo libro a cosa si è ispirata? Io mi sono ispirata ad una storia vera proprio alla storia di una famiglia di pescatori realmente accaduta nello specifico mio padre E la dirigente scolastico Giovanna Palazzolo Noi abbiamo deciso di aprire la scuola alla presentazione di libri e di avere qui le autrici finora sono state tutte di sesso femminile e spero di continuare sempre su questa scia La lettura dei brani di ieri è stata affidata a Lucilla Anzalone con accompagnamento musicale